Oggi mi trovo a San Patrignano e sono qui per festeggiare 40 anni di attività di Oikos. Oikos è un'azienda italiana con sede a Gatteo Mare e che si occupa dal 1984 di pittura ecologica, quindi utilizza solo ed esclusivamente materie prime naturali. Oggi ripercorre qui i suoi 40 anni e decide di farlo a San Patrignano perché ha un legame profondo con la comunità nata anch'essa negli anni 80. Questi 40 anni trascorsi veramente, anche velocemente, con tante azioni, con tante attività, ma soprattutto abbiamo introdotto un nuovo metodo di interpretare la decorazione del colore, ma soprattutto farlo con la massima sostenibilità, nel massimo rispetto dell'ambiente, della salute delle persone. Sono 40 anni di meraviglie, fatte di colori, fatte di emozioni, fatte di una crescita esponenziale che ha avuto l'azienda. Quando io sono entrata da 32 anni fa, la storia produrre in una maniera sostenibile, fare delle cose meravigliose, riprendere la decorazione, era proprio nella sua nascita. In questi 40 anni si sono fatti passi da gigante, da prodotti che sono nati, dalle qualità, dove sono andati. Oggi tutto il mondo ha qualcosa di Oikos. I progetti più importanti, più impegnativi in giro per il mondo hanno qualcosa di Oikos. Oikos ha segnato veramente la storia della decorazione italiana in tutto il mondo. Oggi in realtà tutte le aziende guardano alla sostenibilità, è un po' un tema centrale, però credo che nel 1984 poteva essere considerato un visionario da questo punto di vista. E dico per fortuna che oggi ci sono tante aziende e devo dire che ancora sono poche quelle che guardano con realtà e con onestà la sostenibilità. Perché vestirsi di verde, dire che siamo green, è bello, fa moda, fa tendenza, ma bisogna farlo. Allora l'invito che faccio sempre a tutti gli imprenditori è che io sono riuscito e ho fatto business nel rispetto dell'ambiente. Si può fare business nel rispetto dell'ambiente, basta credersi e volerlo. Ecco, noi lavoriamo nel settore delle vernici, delle pitture, tipicamente chimica, che ha avuto un percorso forte con un impatto notevole. Ecco, allora noi l'abbiamo fatto, siamo riusciti a farlo, perché ne siamo convinti, perché siamo tuttora oggi sempre alla ricerca del meglio, del più sostenibile, nonostante che lo facciamo. E quindi si può fare. Il claim di oggi, di questa bellissima giornata dedicata ovviamente ad OICOS, è ritorno al futuro nel rispetto del passato. Che cosa vuol dire, Presidente? È una bella frase, perché dà un valore forte a quello che è il nostro passato, non solo come azienda, ma della nostra storia, perché noi siamo andati a prendere ciò che si faceva nell'antichità, che non esisteva la chimica, non esistevano tutto quello che oggi abbiamo, e quindi comunque c'era il colore, comunque c'erano le decorazioni. La testimonianza lo sono tutti i ritrovi storici nei palazzi che li vediamo costantemente, l'Italia è piena di questo. Quindi il rispetto del passato, perché era possibile farlo con prodotti naturali, con pigmenti naturali, è oggi guardare al futuro e dire, se ieri è stato fatto tanto, è possibile farlo anche nel futuro.